Giunga a tutti in più cordiale saluto, buona settimana santa. Facciamo questo momento di riflessione, questo video, per introdurci il meglio possibile al Triduo Pasquale. È un'introduzione molto semplice, che non ha nessuna velleità liturgica, storica, teologica, ma semplicemente un piccolo aiuto per poter entrare al meglio in quelli che sono i suggestivi riti della settimana santa. Riti che come comunità parrocchiale non potremo fare in tutta la loro pienezza. Alcuni riti, come sapete, non potranno essere compiuti, la lavanda dei piedi, oppure nella veglia pasquale il rito della luce. Il Papa, certamente, e il Vescovo in cattedrale potranno celebrare in tutta la pienezza i riti pasquali, ecco, nelle parrocchie meno, per anche evidenti motivi. Lo spazio è limitato anche nella diffusione delle immagini. Noi come comunità parrocchiale vivremo nella chiesa di San Dalmazio il giovedì santo, la messa in cena domini e l'azione liturgica del venerdì santo. Poi la veglia pasquale abbiamo deciso di unirci in preghiera, di unirci spiritualmente a Monsignor Vescovo che alle 21 la celebrerà in cattedrale in collegamento con Cremona 1 o con i media diocesani. Ci ritroveremo poi la domenica mattina alle 11 per la messa solenne di Pasqua, sempre dalla nostra chiesa parrocchiale. Allora entriamo brevemente a scoprire quello che è il triduo pasquale. Bisogna dire che all'inizio i cristiani celebravano soltanto la domenica, la domenica come il dies domini, come il giorno del Signore, il giorno del risorto. Da questo ecco poi nucleo germinale e germinante della domenica come piccola Pasqua della settimana, come festa primordiale, ben presto i cristiani hanno cominciato a celebrare il mistero pasquale in modo più solenne in quella grande domenica dell'anno che è chiamata appunto Pasqua per antonomasia. Quindi diciamo che la Pasqua, la celebrazione annuale della Pasqua è arrivata un po' dopo rispetto alla celebrazione settimanale della Pasqua. Quindi se ecco la domenica è il giorno per eccellenza della settimana per il cristiano, la Pasqua è la festa per eccellenza per il cristiano, è la solennità delle solennità, perché appunto nella celebrazione pasquale il cristiano fa memoria, celebra il nucleo fondamentale dell'esperienza cristiana che è la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Se qualcuno dovesse chiederci qual è il fondamento della tua fede, qual è il nucleo, il centro della tua fede, noi dovremmo dire Cristo che è morto e risorto. La risurrezione di Cristo, la sua morte per redentiva e la sua risurrezione gloriosa sono al centro della nostra fede. Ci lo ricorda continuamente San Paolo, quante volte lo diciamo, quando dice se Cristo non fosse risorto va nella nostra fede. Crederemo in un uomo grande, in un predicatore eccezionale, in una persona assai virtuosa, in un modello umano, ma pur sempre un uomo che non può dare una risposta al grande quesito umano che è appunto la morte, la vita, quello che facciamo su questa terra, l'aldilà, sono le grandi domande che hanno percorso la storia dell'uomo e che Cristo, attraverso la sua incarnazione, è venuto per dare una risposta definitiva, una risposta ultima. Quindi al centro della nostra fede c'è la risurrezione. Quando qualcuno scherzosamente mi dice ci sarà qualcosa di là? Io non mi arrabbio per carità, però mi viene da dire ma caspita tu sei cristiano, vai a messa tutte le domeniche e metti in dubbio proprio il centro, il fulcro della tua fede, metti in dubbio quello per cui tu vai in chiesa, quello per cui tu celebri l'eucarestia, il fatto che Cristo ha vinto la morte. Perché no? Altrimenti davvero saremmo come le altre persone, i non credenti, che ammirano Gesù. Chi è che non ammira Cristo? Chi è che non ascolta con stupore le sue parole riguardo all'amore al prossimo, riguardo al perdono, riguardo ad una sobrietà e povertà di vita? Chi è che non rimane a bocca aperta di fronte ai suoi gesti pieni di misericordia, pieni di amore, pieni di perdono? Però non basta, non basta credere in un uomo, non basta credere in un uomo che ha realizzato certamente appieno la propria umanità. Noi crediamo in un uomo che è Dio, vero uomo e vero Dio e che ci dà quindi la certezza di avere vinto la morte. Anticamente la celebrazione del triduo pasquale era cadenzato nei giorni del venerdì, del sabato e della domenica. Il venerdì era considerata la Pasqua di passione, il sabato la Pasqua di sepoltura e la domenica la Pasqua di risurrezione. Poi mutando una tradizione della chiesa di Gerusalemme che viveva il triduo pasquale proprio come un seguire Gesù passo dopo passo, cronologicamente celebrava gli eventi della passione morte e risurrezione, ecco che la chiesa ha ricepito proprio dall'antica comunità di Gerusalemme la consuetudine di celebrare il giovedì sera, il giovedì santo, di celebrare la messa in cena domini che diciamo è il proemio, è l'inizio di quello che poi sarà la passione del Signore. Noi ecco in maniera sbagliata poi mettiamo un po' tutto insieme diciamo che il giovedì santo fa parte del triduo pasquale. Il triduo pasquale inizia non il giovedì mattina ma inizia la sera del giovedì quando appunto la comunità si riunisce per celebrare, per commemorare l'ultima cena di Gesù. L'ultima cena di Gesù che potremmo dire è poi considerata, chiamata una Pasqua rituale perché Gesù nell'ultima cena che cosa fa? Anticipa attraverso il segno del pane e del vino la sua morte in croce. Gesù attraverso quel meraviglioso gesto dello spezzare il pane e del versare il vino non fa altro che annunciare sacramentalmente quello che poi avverrà appunto sulla croce, lo spezzare sì della propria vita per la salvezza del mondo, il versare il proprio sangue per la redenzione dell'umanità. Per cui ecco il giovedì sera noi commemoriamo l'ultima cena e non facciamo altro che anticipare quello che poi avverrà sul Calvario, è quello che poi fa appunto Gesù, è quello che poi facciamo in ogni celebrazione eucaristica perché ogni celebrazione eucaristica è la memoriale della morte e della risurrezione di Cristo. Allora è particolarmente suggestiva la celebrazione, quindi per dire la messa crismale, la messa cioè di tutti i sacerdoti che si ritrovano in cattedrale la mattina del giovedì santo per rinnovare le promesse sacerdotali, per consacrare insieme al vescovo gli oli santi, l'olio del crisma, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi, non fa parte del triduo pasquale. È una celebrazione che ha il sapore certamente della Pasqua ma non rientra in quelle che sono le celebrazioni proprie della passione, morte e risurrezione di Cristo perché appunto, ripeto, il triduo inizia con la messa in cena domini che ha, almeno ecco nella nostra comunità, inizia con l'accoglienza degli oli che sono stati consacrati la mattina appunto dal vescovo e che serviranno per la celebrazione dei sacramenti durante l'anno. Ma diciamo che poi l'aspetto più caratteristico, più bello, più suggestivo di questa celebrazione è la lavanda dei piedi. Già il Vangelo ce l'annuncia ed è interessante che la Chiesa abbia scelto per la messa in cena domini il Vangelo di Giovanni che racconta appunto di questo gesto così strano che compie Gesù all'inizio della cena pasquale perché Gesù sta celebrando con i suoi discepoli la Pasqua ebraica, le sta dando un significato nuovo. Pasqua ebraica era la commemorazione del passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo di Israele, affrancato finalmente dalle catene degli egiziani. L'agnello che doveva essere mangiato, il vino che doveva essere bevuto, ecco tutte le simbologie che poi Gesù naturalmente avocherà a sé. E allora all'inizio di questa cena che commemora il passaggio dalla schiavitù alla libertà e che diventerà poi il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia in Cristo Gesù, ecco Gesù compie questo gesto della lavanda dei piedi e la Chiesa dice si proclama questo Vangelo, potrebbe, doveva almeno logicamente proclamare il Vangelo dell'istituzione dell'Eucarestia visto che al centro c'è quella. No, sarà poi la seconda lettura che ci lo ricorderà attraverso il racconto di San Paolo. Però l'attenzione sta proprio qui, appunto nella lavanda dei piedi. Perché? Perché nella celebrazione del Giovedì Santo, oltre a commemorare, ricordare l'istituzione dell'Eucarestia e di conseguenza del sacerdozio cattolico, ecco ricorda anche la consegna del comandamento nuovo, il comandamento dell'amore. Allora la lavanda dei piedi diventa davvero il gesto più grande, più bello che manifesta il comandamento dell'amore. Perché? Perché la lavanda dei piedi è un gesto di profonda umiltà, di profondo servizio, di abbassamento. Pensate, Dio che si inginocchia di fronte all'uomo e che gli lava i piedi, un gesto che era riservato agli schiavi, all'ultimo degli schiavi della casa. Quando un ospite illustre arrivava per la cena, lo schiavo gli lavava i piedi, perché naturalmente con i sandali, perché le strade non erano le nostre, perché le strade erano piene di polvere, piene di sassi, eccetera, per cui i piedi erano molto spesso infangati, erano sporchi. Non era certamente un compito gradevole quello che era riservato a questo schiavo che doveva lavare i piedi, ma Gesù lo fa, Gesù lo fa perché vuole far comprendere, far capire ai suoi discepoli qual è la natura profonda della sua missione, che è quella di essere servo, di essere colui che si mette di fronte all'uomo non con la qualità del Dio onnipotente severo, ma del Dio impotente, impotente per amore. E il compito che viene riservato a Gesù in quell'ultima cena è il compito che è riservato da ogni cristiano. In fondo la lavanda dei piedi è un altro modo per dire l'Eucaristia. Perché cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è il sacramento dell'amore, è il sacramento dello spezzarsi per l'altro. Nelle antiche comunità cristiane si portava un unico pane e poi veniva spezzato e dato a ciascuno un pezzo, un duplice significato. Siamo una comunità sola, composta da tante piccoli pezzi, ma una comunità sola. E dall'altro significato il corpo di Cristo che viene spezzato per dare il nutrimento a tutti. E allora ecco che noi celebriamo l'Eucaristia tutte le domeniche, ma possiamo celebrarla in maniera diversa, ma tanto efficace quanto la celebriamo la domenica, ogni giorno compiendo dei gesti di carità. I gesti di carità che noi compiamo nei confronti dei nostri fratelli sono un prolungamento dell'Eucaristia che celebriamo la domenica, la manifestazione concreta dell'Eucaristia che le celebriamo la domenica. Allora vedete come ecco il Giovedì Santo ci vuol dire quanto è importante il legame tra il culto e la vita, che è uno degli aspetti che Gesù ha curato di più, è uno degli aspetti che lo ha anche reso in viso nei confronti dei farisei e degli iscrivi. Quante volte Gesù, come gli antichi profeti, si scaglia contro di loro perché il loro formalismo religioso aveva indurito il cuore. Allora ecco il Giovedì Sera, ecco il Giovedì Santo, noi compiamo questa commemorazione che è un forte richiamo ad una purificazione della nostra fede e della nostra carità. La celebrazione poi termina nel silenzio perché accompagniamo poi idealmente Cristo nell'orto degli olivi. La messa termina con una processione che quest'anno non si farà per ovvi motivi ad un altare laterale, all'altare della riposizione, non al sepolcro perché non si usa, perché ecco è sbagliato definirlo così, non portiamo Gesù ecco nel sepolcro ma nell'altare della riposizione e la celebrazione termina con l'adorazione eucaristica. Tra l'altro, interessante, la celebrazione termina senza nessun congedo perché? Perché la Chiesa vede questi tre giorni come un unicum, un'unica grande convocazione, come se fossimo sempre in perenne convocazione liturgica. Soltanto alla veglia pasquale verremo congedati con l'annuncio del punto dell'alleluia, alleluia, la messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Allora ecco, giovedì sera c'è questa prolungata adorazione che appunto ci ricorda, ci richiama la preghiera di Gesù nell'orto degli olivi, nella notte nella quale ecco Gesù accoglie definitivamente il progetto di Dio, no? Ricordiamo la sempre accorata preghiera che Gesù fa e nella quale rivela tutta la sua umanità. È bello questo Gesù così vero, così verace, così autentico, vero Dio, vero uomo e l'umanità lì in quel momento davvero prorompe, no? Perché come tutti gli uomini Gesù ha paura della sofferenza, ha paura del dolore, però termina con quel sia fatta non la mia ma la tua volontà che dovrebbe essere la conclusione di ogni preghiera cristiana. Perché noi preghiamo, e lo ripeto, l'ho detto tante volte, non perché Dio faccia la nostra volontà, perché Dio si abbassi ai nostri orizzonti, ma noi preghiamo perché impariamo a fare la volontà di Dio. È una grande illusione quella di pensare di pregare per piegare Dio alle nostri piccoli disegni. No, noi preghiamo per imparare di immergerci nel grande disegno di Dio, nella grande obbedienza di Cristo, che è difficile, certo, ma non impossibile con la grazia di Dio. Il venerdì santo, poi, noi celebriamo quella che è l'azione liturgica della morte e della risurrezione di Cristo. Anche questa celebrazione ha dei gesti suggestivi. È una celebrazione suggestiva perché si compie una volta all'anno, non è la celebrazione della messa. Il pane eucaristico che è stato consacrato la sera precedente deve bastare per la celebrazione, per la celebrazione della, per la distribuzione, ecco, dell'Eucaristia del venerdì. È un giorno, potremmo dire, insieme al sabato, che appunto non, gli unici giorni in cui non si celebra l'Eucaristia. La celebrazione inizia anche qui, in maniera suggestiva, con il silenzio, che non è il silenzio di un funerale, no? Ma è il silenzio di un'attesa, perché noi non celebriamo il funerale di Gesù, non celebriamo la morte di Gesù, noi celebriamo la croce gloriosa, celebriamo il gesto grande di offerta che Gesù fa di se stesso al Padre. E il Vangelo di Giovanni ce lo ricorda, con il tema della glorificazione. Gesù è il grande sovrano, no? Così lo dipinge Giovanni nel Vangelo, nella passione che si legge appunto il Venerdì Santo, passione lunga, non c'è la possibilità di fare parti brevi, e in questa passione Gesù, ecco, rivela la sua regalità, la regalità della croce, che trova poi, diciamo, un proprio ideale così, interpretazione ancora di più suggestiva con la prima lettura, dove si parla del serbo sofferente, il profeta Isaia, o della lettera agli ebrei, della seconda lettura, dove si parla di questo sommo sacerdote che ha a cuore l'infermità del suo popolo. La liturgia della parola occupa uno spazio notevole in questa celebrazione e trova poi il suo compimento nella preghiera universale. Ai piedi della croce, contemplando il Cristo sommo sacerdote, il popolo di Dio si fa anch'esso popolo sacerdotale, quindi prega, intercede per l'umanità intera. E allora la lunga preghiera universale, nella quale davvero si prega per tutti, si prega per la Chiesa, per l'umanità, si prega per i credenti, non credenti, per gli ebrei, per tutte le categorie, per gli increduli. E quest'anno, ecco, il Papa ha voluto, la Santa Sede ha voluto aggiungere la preghiera per la pandemia. È davvero una grande invocazione di questo popolo sacerdotale che ai piedi della croce, ecco, invoca, invoca da Dio protezione e salvezza. Segue poi il secondo momento importante dell'azione liturgica, che è l'adorazione della croce, che si può fare in due modi. Noi nella nostra comunità l'abbiamo sempre fatta come processione. Dal fondo della Chiesa il sacerdote porta la croce e la ostende per tre volte, cantando quell'antifono, ecco la croce, che rivela l'essere non tanto uno strumento di supplizio, ma di salvezza. Si può anche fare un secondo, un gesto diverso, che è quello dello svelamento della croce che è appunto velata da un panno. Per tre volte, no? Lo si svela piano piano e per tre volte si canta questa invocazione, questa, quest'antifona. Anche qui noi non facciamo altro che adorare il segno della nostra salvezza. La croce viene svelata, viene mostrata al mondo come davvero il trono di grazia di Dio, dal quale Dio dispensa la salvezza per l'umanità, come il luogo nel quale viene raccontata una storia nuova. Viene finalmente conclusa quella storia di disobbedienza e di allontanamento iniziata nel giardino terrestre con il peccato originale e inizia una storia di obbedienza dell'uomo nei confronti di Dio. Poi la comunione eucaristica con il pane che è stato consacrato il giorno precedente, ecco noi ci uniamo ancora una volta a Cristo e attraverso questo gesto, ecco, di comunione con Cristo, domandiamo a quel Padre di essere anche noi capaci di offrire la nostra vita per gli altri. La celebrazione poi termina, anche qui, senza una particolare benedizione, senza un particolare congedo, ancora una volta nel silenzio e nella preghiera. Un silenzio e una preghiera che deve connotare poi il sabato santo. Il sabato santo è giorno nella quale non si celebra nulla, nelle chiese come da noi dal resto si celebra le lodi, l'ufficio delle letture, ma non ci sono altre celebrazioni. La giornata intera è dedicata alla preghiera, Cristo è stato sepolto e noi allora siamo in attesa, in silente attesa per il miracolo grande dell'appunto della risurrezione. La veglia pasquale che deve essere celebrata di sera, di notte e che anche qui ha un grande suggestione, perché ci sono appunto gesti che non vengono mai fatti durante l'anno se non in quella celebrazione. La celebrazione deve avvenire, deve iniziare nel silenzio e nella notte, nell'ombra di notte. Perché? Perché deve emergere il fuoco, la luce. Sono dei gesti, la luce, l'acqua, la vita. Sono gesti, sono elementi che abbiamo già incontrato in Quaresima. Sono elementi che dicono la qualità del sacramento del battesimo, che dicono la qualità della vita nuova. Perché in fondo, ecco, nella veglia pasquale noi non facciamo altro che sperimentare la vita nuova in Cristo. Allora il fuoco, la luce, il cielo pasquale che rappresenta Cristo Signore, i cerini che ciascuno dei presenti hanno in mano e che dicono la volontà di essere riflesso della luce di Cristo. La luce che squarcia le tenebre, le tenebre del peccato, le tenebre del male. Il male si nutre di buio perché appunto il male non deve e non vuole essere scoperto, non vuole essere illuminato. Il male nell'oscurità riesce a ordire le proprie trame. Cristo attraverso invece la sua luce smaschera quella che è appunto l'ipocrisia dell'uomo, il suo peccato, il suo male. E allora la luce della risurrezione squarcia le tenebre della notte, del male, dell'incredulità e il cero che attraversa poi tutta la Chiesa e man mano che guadagna il presbiterio, ecco, la Chiesa si illumina fino all'ultimo quando appunto per la terza volta viene cantato Cristo luce del mondo, lume in Cristo, no? Deo grazia, se rendiamo grazie a Dio allora ecco che la Chiesa si accende di luci. Perché? Perché ora bisogna cantare il canto appunto del canto pasquale, l'imno pasquale più più bello che è l'Exultet, no? Esulti il coro degli angeli, esulti l'Assemblea celeste, un inno, no? Che appunto racconta la vittoria di Cristo sulla morte, no? Felice colpa, quell'espressione che dice, no? Così anche questa così suggestiva. E la celebrazione poi continua anche qui con una corposa liturgia della parola, che magari con le Chiese parrocchiali viene un po' diminuita perché non si vuole allungare eccessivamente la celebrazione. Però sono sette letture dell'Antico Testamento con sette salmi di risposta. Il salmo è sempre la risposta del popolo di Dio alla parola che è stata proclamata. Il popolo di Dio risponde alla parola con la parola. È un momento nel quale saremmo chiamati ad interiorizzare quello che abbiamo ascoltato, attraverso appunto la parola di Dio, la preghiera che è contenuta nella Sacra Scrittura. E poi, ecco, lettura, salmo, orazione del sacerdote. Così per sette volte. lettura, salmo, orazione del sacerdote. L'orazione del sacerdote che ha il compito di interpretare cristicamente, ecco, la lettura che è stata proclamata. Di dare un'attualizzazione in Cristo di quello che è stato proclamato. E nelle sette letture viene proclamata la storia della salvezza, dalla creazione, alla chiamata di Abramo, alla liberazione del popolo di Israele e di Mosè, e poi i libri della sapienza, i libri dei profeti. È un cammino, una salita, una salita verso la pienezza, perché appunto la liturgia della parola della Venia Pasquale ci vuol far comprendere che Cristo è la pienezza, è l'apice, è la cima di questa storia. Lui è il completamento della storia della salvezza. In Cristo la storia della salvezza raggiunge il suo culmine. E allora ecco che queste letture con i momenti salienti della storia di Israele convergono poi appunto in Cristo nel Vangelo della Rissurrezione, che è preceduto poi prima dal canto del Gloria, con i campanelli che suonano per dire che adesso tutto si risveglia. Giovedì santo c'è stato il Gloria che ha chiuso ogni suono, come se anche la terra partecipasse al silenzio, al silenzio della morte, al silenzio della comunità dei credenti. E adesso invece anche la terra, anche le cose, anche le campane, anche gli strumenti musicali riprendono fiato perché c'è da annunciare qualcosa di grande, l'annunciare la vittoria della vita sulla morte. Per cui ecco che a Gloria risuonano le campane, risuonano i campanelli, risuona l'organo in tutta la sua forza per annunciare che c'è qualcosa di nuovo. Allora la lettura del Nuovo Testamento tratta dalle lettere dell'Epistola di Paolo che parla di Rissurrezione, poi l'Alleluia, il Salmo alleluatico e poi finalmente il Vangelo che annuncia appunto la vittoria di Cristo sulla morte. Il momento successivo, la liturgia successiva, è quella dell'acqua, è la liturgia battesimale. Noi sappiamo che il battesimo è il primo dei sacramenti ed è, diciamo, il sacramento nel quale noi ci immergiamo nella morte e nella risurrezione di Cristo. Anticamente, molto bello, cosa che accade ancora nella tradizione ortodossa, i bambini venivano battezzati per immersione, ma immersione voleva dire proprio tutto, no? Ma così anche per gli adulti anticamente. Ci si calava nell'acqua, in queste vasche enormi, e si andava sotto con la testa, no? Perché? Perché l'acqua rappresentava la tomba, rappresentava la morte, quindi uno moriva all'uomo vecchio, moriva al peccato e uscendo dall'acqua quel primo respiro, no? Rappresentava la vita nuova, la vita nuova in Cristo. In Cristo io muoio e risorgo e il battesimo ha questo dinamismo. Allora ecco il senso della celebrazione battesimale nella veglia pasquale, perché davvero attraverso il simbolo, il segno dell'acqua, noi ecco facciamo memoria di questa rinascita che avviene in Cristo. Nel momento in cui noi accogliamo la logica della morte e risurrezione di Cristo, nella nostra vita noi facciamo la stessa esperienza spirituale. Moriamo l'uomo vecchio e rinasciamo l'uomo nuovo. Allora la benedizione del fonte battesimale, la benedizione dell'acqua per i battesimi e con anche poi alla fine il rinnovamento delle promesse battesimali. Il battesimo è un dono che viene concesso da Dio, il dono più bello, perché ci fa suoi figli, ci fa eredità di Dio, ci fa familiari di Dio, ci fa carne e sangue di Dio, con un carattere che è intelebile, nessuno potrà mai cancellare questa nostra figliolanza, questo nostro rapporto stretto con Dio. Ecco, il battesimo è un dono ma è un dono che diventa poi impegno, allora ogni giorno noi siamo chiamati a vivere il nostro battesimo, a non pensare che sia una celebrazione avvenuta 30, 40, 50 anni fa, punto, lì così, ferma. No, ogni giorno noi abbiamo il compito di ravvivare il dono del battesimo, il dono della figliolanza divina, che troverà poi compimento nel momento in cui ci troveremo di fronte a Dio, perché al funerale la bara viene aspersa con l'acqua benedetta. È un gesto per dire, signore questo è tuo figlio, con questa stessa acqua lui è stato battezzato tanti anni fa, è diventato parte di te, ora accoglilo. Ma noi nella nostra vita, ecco, abbiamo consapevolezza di questo dono e quando rinnoviamo tutte le volte le promesse battesimali, ecco, ci ricordiamo che dietro a questo dono c'è l'impegno poi da vivere da cristiani, da vivere da redenti, perché io vivo da cristiano e da redento non perché ho paura dell'inferno, del giudizio di Dio, ma perché so già che cosa mi aspetta, il paradiso. Io vivo da cristiano per gratitudine e perché è gioco forza a vivere così, perché io sono già destinato a qualcosa di grande, allora non posso contraddire quello per cui sono destinato, quello per cui sono stato battizzato. E la celebrazione poi della liturgia della della veglia, no, culmina con l'Eucarestia, si torna a celebrare l'Eucarestia che è appunto, ripeto, il memoriale della morte e della risurrezione di Cristo. E poi si termina, ecco, con la benedizione e con il congedo che diventa poi, diventa poi missione, no, nella Chiesa e nel mondo. Ecco, queste, senza chissà quali pretese, sono un po' gli aspetti fondamentali del Trigo Pasquale che poi rivelano, ecco, la nostra dignità di cristiano, perché in ogni celebrazione poi noi siamo chiamati ad una interiorizzazione, a fare nostro poi quello che celebriamo. Guai a noi, no? se quello che celebriamo non diventa poi vita concreta. Giovedì con il comandamento dell'amore, venerdì con la contemplazione, no, dell'offerta di Cristo della propria vita, della propria obbedienza, e sabato sera con la contemplazione appunto della vittoria, no, definitiva, no, di Cristo sul peccato e sulla morte. Interessante poi, che non fa parte del Trigo Pasquale, ma la celebrazione del lunedì. Il lunedì dove si legge ancora della Ressurrezione e si dice, e dicono, i misteriosi personaggi dicono alle donne, dite ai discepoli di tornare in Galilea. È bella questa espressione, perché cosa vuole dire? Vuole dire tornate alla vostra vita di ogni giorno. Mi piace sempre tutti gli anni ricordarlo chi partecipa alla messa del lunedì dell'angelo. Adesso che siamo stati in chiesa tanto tempo in questi giorni, abbiamo celebrato tante belle liturgie, adesso il Signore ci chiede di tornare in Galilea, cioè di tornare alla nostra vita di ogni giorno. Infatti i discepoli poi torneranno a fare i pescatori. Cioè torniamo ad essere quelli che eravamo, ma con uno spirito nuovo, uno spirito diverso. L'augurio che faccio a ciascuno di voi di vivere con intensità questa Settimana Santa, questo Trigo Pasquale, e di poter tornare alla propria Galilea con il cuore rinnovato, con un cuore nuovo, migliori, che vuol dire pronti a un'opera profonda di conversione. Buona Pasqua a tutti.